Secondo il Focus Censys di Conf Cooperative, un paese da ricucire, sono circa 3 milioni le famiglie italiane che si trovano in una condizione di povertà. Si tratta di quasi 10 milioni di persone. Non solo, nello studio sono emersi anche i dati relativi alle imprese e agli occupati. Sono ben 300 mila, infatti, le imprese che rischiano di chiudere a causa di 300 miliardi di debiti, nonché ben 3 milioni di occupati a rischio. A tal proposito è intervenuto il presidente di Conf Cooperative, Maurizio Gardini, spiegando che il disagio sociale supera i confini della povertà, conquistando nuovi spazi, mettendo nuove vittime, tra chi fino a oggi pensava di essere al riparo.